Nel settembre del 2016, per via dei lavori di restyling alla casa comunale, gli uffici comunali di Castellabate vennero trasferiti temporaneamente presso la palestra pane bianco delle scuole elementari di Santa Maria di Castellabate. Gli uffici comunali ebbero come sede alla palestra fino all'ottobre del 2018 ed ora, ad un anno e mezzo di distanza, la palestra pane bianco è ancora inutilizzabile, a causa del mancato ripristino dello stato originale dei luoghi da parte dell'amministrazione. A denunciare questa situazione è la consigliera di minoranza Caterina Di Biasi, che negli scorsi giorni ha presentato delle interrogazioni al comune di Castellabate riguardo questo stato di disagio per i bambini. La richiesta della consigliera è quella di ripristinare immediatamente le funzionalità della palestra pane bianco, perché attualmente sono ancora presenti al suo interno materiale d'ufficio e questa situazione sta penalizzando il percorso scolastico dei bambini, che al momento devono usufruire della palestra della scuola Luigi Guercio. A questo punto, visto il disinteresse di questa amministrazione, chiedo il ripristino immediato della palestra, perché, vorrei ricordare, che attraverso lo sport, il divertimento e il gioco, i bambini imparano alcuni dei valori più importanti della vita. Queste le parole della consigliera Di Biasi, che si dimostra guerrita nel voler risolvere questa situazione spiacevole per i bambini di Santa Maria di Castellabate.